Fare sistema è necessario per i territori soprattutto in una logica di competitività e di distribuzione sempre più ampia a livello globale. Da soli si va poco lontani, se si fa sistema insieme a territori vicini, si ragiona su marketing senza confini, è molto più facile arrivare su tanti mercati e avere una distribuzione ampia e diffusa. Nella nostra piccola esperienza di azienda per il turismo in Trentino, in Val di Fieve in particolare, all'interno di un bene unesco come le Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità, abbiamo cercato di farlo con i territori vicini, lo stiamo facendo sia nella versione invernale attraverso Dolomiti Superski, sia nella versione estiva attraverso dei progetti interambito, quindi di collegamento fra vari territori per portare l'idea di Dolomiti, l'idea di un territorio ampio, su mercati ancora distanti, difficili da raggiungere come quello di Oltrooceano, ma anche nel nord dell'Europa, una nuova destinazione in cui il brand della singola destinazione non può attecchire, ma è più facile portare un brand ampio come quello delle Dolomiti. Musica Musica Musica